Buongiorno amigli, li vedete questi cuscini? Sono i cuscini della Duma, sembra di stare a Saratov. Quando vedete questi cuscini, i cuscini della Duma, significa che il comitato centrale del PQS si è espresso in un parere politico di interesse umanitario ed internazionale ed ha preso una sua decisione su un fattore di rilevanza internazionale per il futuro dell'umanità tutta. E infatti questo sarà un video pregno, pregno di socialismo, perché andremo a parlare del tetto degli stipendi. Tetto degli stipendi, prendete un bel foglio, una penna e scrivete tetto degli stipendi, due punti, una scelta nostra e socialista. Questo è il titolo dell'argomento che andremo ad affrontare oggi. Allora faccio un piccolo disclaimer per tutti gli antipopulisti poveri che verranno, perché io ho fatto anche un podcast sugli antipopulisti poveri. È una categoria di persone che ho già tematizzato, che sono quelli che come interesse di classe avrebbero, perché magari non sono degli aristocratici, non sono delle persone particolarmente benestanti, ma vuoi per posa, vuoi perché si sentono un cazzo e mezzo pur non essendolo, vuoi perché fa figo, pur appartenendo ad una classe popolare, ad un ceto economico popolare, dei semplici, diciamo, si divertono a tenere pose aristocratiche, mercatiste e elitarie, pur non essendo loro parte dell'elite. È una di quelle pose che vanno tanto di moda nell'attualità. Allora, piccolo disclaimer per gli antipopulisti poveri, a me piace avere a che fare con gente che ha coscienza di classe. Noi mescoliamo alla kultur germanica e mitteleuropea, al nichilismo mitteleuropeo, ma anche al romanticismo mitteleuropeo, mescoliamo la sana prassi socialista marxista che a noi tanto piace. Quindi abbiamo da un lato una sorta di coscienza e conoscenza per il memento mori, e per la capacità di capire che è tutto caduco, finibile e mosso da spiriti animaleschi. Dall'altra, la prassi marxista ci muove a valutare sempre gli interessi di classe sottostanti alle scelte che vengono prese nell'imperio globale. Insomma, quindi questa nostra superiorità culturale, questa nostra ricchezza culturale, ci pone già in una posizione di diversità rispetto agli antipopulisti poveri e a chi vive di mero storytelling, a chi vive della buona novella del capitale. Quindi io parlo ad individui maturi, ad individui coscienti, ad individui anche incazzati, ad individui socialmente vogliosi di riscatto, ad individui che amano l'equità sociale e la redistribuzione come l'amiamo tutti noi. E allora, parlando di calcio, non si può non apprezzare l'idea di un tetto agli stipendi e ai calciatori, cosa che a me farebbe veramente molto piacere anche per tornare a dare una dignità, come posso dire, una dignità umana al calcio, per tornare a mettere al primo posto la primazia, non solo della politica, ma dell'etica e della morale nei confronti del Vildenaro. Ora, uno degli argomenti maggiori degli antipopulisti poveri e antiredistributivi imbeccati dall'elite è quello di dire eh, ma un tetto degli stipendi rischierebbe di tramutare il campionato italiano in un campionato di serie B perché poi i grandi campioni bravi e belli non vengono più a giocare qui da noi. E chi se ne frega? E chi se ne frega? Meglio, vorrà dire che vedremo magari esordire dei giovani del nostro territorio o della gente che gioca a calcio magari con meno lustrini ma con più passione, con più spirito rurale. È un rischio che io sono disposto a correre. La vita è fatta di rischi, è fatta di scelte, c'è chi ne prende alcune, c'è chi ne prende altre. Io sarei in una linea temporale, in una dimensione fatta di nostrismo in cui viene applicato il tetto ai salari, al calcio italiano, sono dispostissimo a prendermi anche questa presunta controindicazione che poi voglio dire in quest'epoca di anarchia nei confronti dell'economico vediamo che livelli sta raggiungendo il campionato italiano, sempre più bassi, una sempre maggior sperequazione tra grandi e piccoli club, competitività prossima allo zero, quindi voglio dire non è che l'assenza di lacci e lacciuoli ci abbia fatto tanto bene, anzi io quando sento parlare di lacci e lacciuoli e dazi mi eccito sempre già un po' sessualmente, quindi voglio dire mi sta bene l'imperio, il trionfo del politico sull'economico e del morale sull'indeterminato anarchico del soldo, quindi cosa dire, io sarei favorevole a questa cosa ma vi dico anche di più, è una questione che avvicinerebbe per me anche la gente al calcio, sarebbe un qualcosa di più popolare, con qualcosa, riavremo un calcio più vicino alla gente e più prossimo al modo di pensare dei comuni cittadini, della gente, poi voglio dire qui nessuno pretende che un calciatore guadagni come un operaio perché va anche calcolato il fatto che la vita economica di un calciatore è più breve rispetto a quella di una persona normale che inizia a lavorare magari verso ormai 24-25 anni, c'è chi prima, c'è chi dopo per gli studi e però finisce verso i 65-64 circa, la vita di un calciatore inizia sia a 17-18 anni e finisce però a 35-36 se va tutto bene, quindi è normale che un calciatore abbia uno stipendio buono, uno stipendio ottimo, ma sempre secondo me ancorato, uno stipendio che pur nel suo essere più elevato rispetto alla media, quello ci sta, ma che venga ancorato a dei livelli umani, a dei livelli che possano essere quantomeno paragonabili a quelli del comune cittadino, cioè io quando vedo che Cristiano Ronaldo prende 30 milioni di euro all'anno mi girano i coglioni, mi girano i coglioni, perché voi, se a voi non fa schifo, specie e impressione il pensare a quanta gente muore di fame, fa fatica ad arrivare a fine mese o fa fatica a campare la famiglia, a far studiare i figli, o a curarsi, e vedete gente che prende 30 milioni all'anno, se questa cosa non vi fa schifo, cioè io veramente provo pena per voi e per la vostra coscienza politica, per la vostra coscienza di animali sociali, da pole, diciamo veramente provo pena, poi qui arriveranno sempre gli antipopulisti poveri con le loro teorie del marketing, direi ma Cristiano Ronaldo è un'azienda semovente, Cristiano Ronaldo fa gli introiti che un operaio non fa, va bene, allora mi spiegate i 7 milioni e mezzo ad un Allegri, mi spiegate cosa giustifica i 10 milioni di sterline all'anno per un conte? Cioè qui ripeto, siamo a livelli ormai totalmente slegati da quella che è la vita del comune cittadino, sono cose che mi fanno schifo, a me allontanano dal calcio, cioè a me sapere che l'allenatore che ho in panchina per la mia squadra guadagna questi soldi mi fa veramente gelare il sangue e mi fa un po' schifo, mi allontana dal mondo del calcio, detta onestamente, sentire parlare di queste cifre, perché per me proprio non hanno giustificazione. Poi ritorneranno gli antipopulisti poveri con la loro novella redatta dal Capitale a dire che questi soldi sono giustificati per il fatto che il calcio tira, che il calcio è un business, che il calcio attira moltissima attenzione e che le persone lo seguono e quindi cresce per quello. Sì, ma non è mica detto che tutto debba essere, tutto debba diventare, debba essere redistribuito tra gli attori, ci sono anche delle entità politiche pubbliche chiamate stati, chiamate in azione, che possono entrare, in questo discorso dovrebbero entrare, generi tutti questi redditi, tassali. Esiste una cosa chiamata tasse, secondo la nostra Costituzione, una cosa anche molto apprezzabile della Costituzione, dovrebbe essere quella della progressività delle imposte, cioè che ognuno paga a seconda di quello che può. Quindi se c'è un settore come quello del calcio che attira moltissimi introiti ma che è e dovrebbe rimanere un intrattenimento, io sarei a favore di una super tassazione su questo tipo di ambiti e di intrattenimenti, visto che il nostro paese, ma penso anche molti altri, ne ha anche bisogno perché la sanità ha un certo costo, perché la previdenza ha un certo costo, a maggior ragione io sarei a favorissimo di una super tassazione sul mondo del calcio. Il problema non è il contestare le inerzie, il dire ma non si può, questo fatalismo del capitale, ripeto, basterebbe un po' di volontà e di volontà comune, perché se ci si mettesse d'accordo anche a livello globale o a livello continentale per una riduzione di queste sperequazioni nel mondo del calcio, secondo me delle leggi sarebbero possibilissime. Se ci sono delle autorità superiori che decidono che il calcio deve diventare giustamente un qualcosa di meno sperperoso, di più equo, più al servizio delle comunità e dei territori nei quali il calcio agisce, secondo me avremo tutto di che guadagnare. È che, ripeto, siamo strafatti di novelle in conto capitale, di storytelling del capitale che ti fa vivere la vita come un'inerzia da subire. Non esiste più la capacità di avvalersi della politica e del politico per non solo rivendicare dei freni ma anche per poterli immaginare è tutto in preda dell'anarchia. Eh, ma se fa soldi vuol dire che se li ha meritati. Eh, ma se prende così tanto vuol dire che è bello e fa bene. No, il cazzo. Ripeto, a me vedere certe cifre di stipendi che girano nel mondo del calcio mi fa girare le palle. Più del costo dei cartellini che pure anche quello è atroce. Sentire gente che fa due stagioni buone e viene venduta per 70-80 milioni sotto sotto mi fa girare il cazzo. ma a 360 gradi ma soprattutto gli stipendi. Soprattutto gli stipendi. Cioè io lì andrei di una tassazione massiccia. Ma cosa ancora più semplice cosa più apprezzabile basterebbe mettere un tetto agli stipendi valido o in tutta Europa o in tutto il mondo o se nessuno si muove apprezzerei il nostrismo e il futurismo di farlo solo in Italia prendendomi anche tutte le conseguenze negative nel breve che possono esserci me ne assumo le responsabilità. mi andrebbero anche bene anzi sarei contento sarebbe bello fare un bel tetto agli stipendi un tetto agli stipendi che avvicini il valore degli stipendi dei giocatori a quella che è la vita reale dei cittadini. Nessuno dice che un calciatore di Serie A deve guadagnare quanto un impiegato un operaio così è giusto che abbia uno stipendio superiore ma non nell'ordine di una differenza di 30-40-100 volte rispetto a quelli che sono gli stipendi di una vita normale ripeto queste cose a me allontanano dal calcio chi non se ne schifa è una persona che probabilmente ha un modo di vedere la vita e di pensare diversissimo dal mio io contrasto veramente l'inerzia soprattutto contrasto veramente il fatto che ci siano persone che giustifichino questa cosa che le giustificano poi rimanendo nel superficiale perché te la giustificano sempre con dei tecnicismi con delle risposte tecniche sul momento ma non si alzano e non guardano se questo è un cammino giustamente proseguibile o se c'è qualcosa che non va secondo me c'è qualcosa che non va ditemi cosa ne pensate un caro saluto è un cammino